Bene, buonasera e benvenuti a questa serata che per noi è particolarmente significativa perché è dedicata a una pagina della storia del nostro Ordine Dominicano all'interno di questa ricorrenza degli 800 anni di fondazione del nostro convento, di questa nostra Basilica Dominicana. E la pagina che questa sera abbiamo voluto dedicare riguarda non la storia del passato ma la storia più recente dell'ultimo dei grandi martiri che il nostro Ordine ha avuto in terra di Algeria in questo periodo cruciale della storia di questo Paese tra il 1994 e il 1996. Ben 12 religiosi e religiose di diverse congregazioni hanno dato la loro vita, hanno donato la loro vita per rimanere vicini alla popolazione nonostante i rischi che correvano. E l'ultimo di questi martiri è un nostro confratello domenicano che era diventato vescovo e che quindi era molto consapevole del rischio che stava correndo. Ecco, noi questa sera lo vogliamo ricordare ma all'interno di questa tematica, questa problematica che Monsignor Pierre Claverie ha affrontato nella sua vita di missionario, nella sua vita di vescovo, cioè il confronto con con l'Islam. Lui che era nato in Algeria e era tornato in Algeria per esercitare il suo ministero sacerdotale ha vissuto questa tensione nel rapporto tra i cristiani e l'Islam di cui parleremo questa sera all'interno del problema, del confronto, del dialogo tra cristianesimo e l'Islam. Per affrontare questa problematica abbiamo l'onore di ricevere qui da noi il Monsignor Pierre Claverie, Pizzaballa, Pier Battista Pizzaballa, che è vescovo del patriarca del patriarcato latino di Gerusalemme. A lui chiediamo appunto di spiegarci questa situazione del rapporto tra cristianesimo e Islam all'interno della storia soprattutto del Medio Oriente perché all'interno di questa storia poi sono avvenuti gli avvenimenti che riguardano il nostro confratello Pierre Claverie. A lui quindi la parola per primo, grazie. Grazie. Ringrazio dell'invito, devo dire molto insistente, che ho accettato volentieri e comunque trovo curioso che io sono francescano, almeno originariamente francescano, che si invita un francescano a parlare di una figura, a presentare un po' una figura domenicana, insomma, è un bel segno, penso, un segno. Del resto questi santi sono indicati come riferimento per tutta la Chiesa e soprattutto poi sono, è una figura molto particolare, comunque poi lascerò spazio ad altri, figura molto particolare soprattutto su un tema molto complesso come quello del rapporto tra Chiesa e Islam e cristiani e musulmani nella storia e soprattutto anche nel presente. Nel momento che sono stati limitati i tempi, leggo, cerco di essere il meno noioso possibile ma cercherò di presentare questo tema piuttosto complesso comunque e sapendo che bisognerà dare solo delle pennellate non si potrà approfondire in maniera esaustiva un tema così controverso e che la storia ci ha consegnato insomma con un carico di tante fatiche, insomma. Diciamo che il Vaticano II ha avviato un ripensamento del rapporto con i musulmani, un rapporto che era caratterizzato da quello che potrebbe essere considerato un insegnamento del disprezzo nel periodo precedente al Concilio. Questo termine, l'insegnamento del disprezzo è un'espressione, questa espressione è formulata dallo storico ebreo francese Jules Isaac e l'ha usata per descrivere il discorso millenario, cioè un rapporto millenario generalmente usato dai cristiani per descrivere l'atteggiamento dei cristiani nei confronti degli ebrei e del giudeismo e un discorso simile ha caratterizzato anche il modo in cui i cristiani abitualmente parlavano i musulmani. Sappiamo che il rapporto tra ebrei e cristiani è sempre stato molto complesso, molto difficile e Jules Isaac, questo ebreo, ha definito l'atteggiamento dei cristiani un insegnamento del disprezzo. Un discorso simile si può fare anche sull'Islam. Quest'anno abbiamo celebrato gli 800 anni dell'incontro tra San Francesco e il sultano di Egitto, un'immagine molto potente e non è un caso se per trovare un'immagine di incontro tra cristiani occidentali e cristiani occidentali, insisto occidentali, perché bisogna distingere un cristianesimo orientale e cristianesimo occidentale. Stiamo parlando del cristianesimo occidentale in questo caso perché quello orientale ha una storia completamente diversa. Non è un caso se per trovare un'immagine di incontro tra i cristiani occidentali e i musulmani dobbiamo andare indietro di 800 anni. Le relazioni tra i due mondi sono sempre state difficili sul piano religioso come su quello politico, spesso mischiati tra loro. Per secoli, infatti, il rapporto tra cristiani e musulmani si è nutrito dal sospetto che l'Islam fosse una forma o una forma rinascente di ebraismo o un'eresia cristiana o una forma di estrazione pagana. D'altro canto, il mondo musulmano a sua volta considerato il cristianesimo una forma di paganesimo. Quindi, da ambellati, c'erano insomma tutte le premesse per non andare d'accordo. Le relazioni tra i due mondi sono sempre state difficili. E così, scusate, il fatto che noi siamo pagani è ancora quello che i movimenti islamici radicali dicono ancora oggi. Il mondo musulmano medio orientale ha sempre identificato le nazioni europee con il cristianesimo occidentale. Cioè, le nazioni, le azioni dei regimi nazionali europei erano i cristiani che le facevano. Identificando quindi le scelte politiche delle nazioni europee con l'atteggiamento dei cristiani nei loro confronti. E per molto tempo è stato vero anche il contrario. Le scelte di emiri e sultani, turchi e non, spesso motivate da esigenze personali e politiche, agli occhi del mondo europeo erano interpretate come scelte dei musulmani. Le nostre rispettive religioni, insomma, sono state strumentali a lotte di potere di ogni genere. Anche per queste ragioni, fin dai primi tempi, le relazioni dell'Occidente con il mondo musulmano sono state caratterizzate da guerre e contrapposizioni politiche e religiose che sono continuate fino ai nostri giorni. Ogni tanto i fanatici dell'Isis si chiamano crociati. Non è a caso, insomma, è un legame con la storia. In tempi e fasi successive i musulmani hanno conquistato lungo i secoli terre governate dai cristiani, conquistarono il cuore dell'impero bizantino, che fu una tragedia per quei tempi, e si estesero in Europa raggiungendo le porte di Vienna ad est e la Spagna a ovest. L'apice della tensione fu raggiunto, forse nel periodo delle crociate, come ho detto, quando i soldati europei, in nome allora strumentale, lo sappiamo, ma in nome della cristianità occidentale, invasero le terre allora governate dai musulmani e ripresero Gerusalemme, creando nel mondo islamico uno shock profondo. Per il mondo islamico la presa di Gerusalemme fu un grande shock. Ma da quest'altra parte, anche l'assedio di Vienna è rimasto nell'immaginario collettivo un momento importante e negativo nella relazione reciproca tra i due mondi, sia per gli europei che per il mondo turco-islamico. L'epanto, ogni tanto si richiama l'epanto, queste cose sono rimaste. Con il lento declino dei regimi islamici mediorientali, gli europei hanno poi, poco alla volta, lanciato progressive campagne di conquista coloniale delle terre governate dai musulmani. Faccio breve, adesso no? Poi non voglio fare la storia. Il secolo XX è stato il secolo che ha visto l'apice delle occupazioni coloniali, ma allo stesso tempo anche la loro fine. Dopo il secondo conflitto mondiale, infatti, si sono diffusi in tutto il mondo mediorientale i movimenti di liberazione nazionale, pensiamo a Nasser dell'Egitto, Assad in Siria e così via, che hanno caratterizzato la vita degli appena nati regimi nazionali arabi. Questi movimenti di liberazione nazionale non erano esclusivamente islamici. I cristiani mediorientali, insisto, mediorientali, hanno avuto un ruolo importante in questi movimenti, ma non c'era alcun dubbio che vi fosse una comune reazione, cristiani mediorientali e musulmani, spesso rancorosa, verso l'Occidente, sia politico che religioso. Anche il conflitto israelo-palestinese è considerato parte di questa contrapposizione tra arabi e occidente. Israele, visto dai paesi arabi, come una creazione occidentale all'interno del mondo arabico. Evidentemente, finisco con la storia in attente, se la lettura storica delle relazioni tra i due mondi meriterebbe più tempo e maggiore precisione. E non c'è alcun dubbio che quanto ho detto finora si presti a discussione e possa essere definito anche superficiale. Sono il primo a dirlo, insomma, ma bisogna dare un po' di punti. L'intento in questa sede è solo quello di spiegare che le relazioni storiche, politiche e religiose tra i due mondi sono sempre state difficili. E questo ci sembra che sia abbastanza chiaro. Le disanime storiche poi le lasciamo in altre sedi. Ma veniamo al presente, dobbiamo parlare del rapporto Chiesa e mondo islamico nel presente. Nel periodo che precede il Concilio, molti hanno chiesto un ripensamento dell'attesimento della Chiesa nei confronti degli ebrei, motivato dalla catastrofica storia di ebrei e cristiani nelle terre formate dalla cristianità, dall'Europa, insomma, soprattutto. Questa evoluzione ha portato molti a chiedere anche un ripensamento parallelo dell'attesimento della Chiesa nei confronti dei musulmani. Non basta ripensare il nostro attesimento nei confronti degli ebrei, ci sono anche i musulmani. Dopo un lungo processo di discussione e dibattito, la dichiarazione sulla relazione della Chiesa con la religione non cristiana, tutti nota come Nostra Etate, pubblicata nel 28 ottobre del 65, affiancò a due paragrafi, il 3 e il 4. Il 3 sull'attesimento della Chiesa nei confronti degli musulmani e il 4 sull'attesimento della Chiesa nei confronti degli ebrei. Il paragrafo 3, sottolineando tutto ciò che i cristiani e i musulmani condividono, afferma inequivocabilmente, cito, la Chiesa considera con stima anche i musulmani, fu scritto nel 65, la Chiesa considera con stima anche i musulmani e ha si instinto sul fatto che, nonostante secoli di ostilità, quindi non sono inventato io, lo dicono anche loro, nonostante secoli di ostilità, cito sempre, numero 3 del Nostra Etate, questo sacro concilio spinge tutti a dimenticare il passato e a lavorare sinceramente per la comprensione reciproca e per preservare e promuovere insieme, a beneficio di tutta l'umanità, la giustizia sociale e il benessere morale, nonché la pace e la libertà. L'unica mia osservazione è sull'espressione dimenticare il passato, si capisce il contesto ma non si può dimenticare, bisogna purificarlo il passato, bisogna rileggere la propria storia, ma senza dimenticarla. In questi giorni la Chiesa si trova tra due apposte tensioni quando si tratta di pensare al rapporto con i musulmani. Da un lato, alcune tendenze dell'Islam politico non solo hanno radicalizzato il discorso musulmano, ma hanno provocato il caos in molti contesti in cui i musulmani e i cristiani hanno vissuto per secoli insieme in Africa, in Asia e in Medio Oriente. Basta pensare al fenomeno ISIS, che ha stravolto la vita dei cristiani, ma non solo dei cristiani, in Siria e in Iraq, ma che ha tentacoli anche in Africa e che riesce ancora a penetrare attraverso i media nella mente di molti giovani sparsi in tutto il mondo, soprattutto nei paesi arabi. Da noi in Terra Santa, Palestina, non abbiamo ISIS, ma la cultura di ISIS, l'ideologia di ISIS attraverso i media penetra per quella volta. E questo è un rischio, insomma. I cristiani della mia diocesi osservano con paura e ansia lo svolgimento di eventi in Egitto, Iraq, Siria e altrove, dove i radicali musulmani hanno massacrato ed espulso cristiani e altre minoranze, distrutto chiese e promosso un discorso anticristiano, direi oggi, agghiacciante. D'altra parte, sempre per paracondicio, adesso non voglio fare la paracondicio, ma d'altra parte dobbiamo anche dire che in Europa, in Nord America, nel mondo occidentale, insomma, prolificano movimenti razzisti, non saprei come altro definirli, che diffondono odio e intolleranza verso gli stranieri, in particolare quelli musulmani. L'islamofobia è ancora molto diffusa e sta rendendo difficile la vita del musulmano medio. Diciamo che sia in Medio Oriente, con Isis e affini, che in Occidente, con questi movimenti razzisti, si sta ripetendo, si rischia di ripetere, se volete, in forme rinnovate e modificate, il copione già visto lungo i secoli passati nelle relazioni tra i due mondi. Spiego. In Medio Oriente, le difficili situazioni politiche, le debolezze e la corruzione dei regimi politici arabi, la vergognosa situazione economica, la conseguente frustrazione di tanti giovani, più del 50% della popolazione a meno di 30 anni. Ecco, tutto questo, il più delle volte, è la base sulla quale i movimenti islamici radicali costruiscono il loro apparato di odio anti-occidentale e anti-cristiano, rispolverando tutti i loro vecchi stereotipi. Dall'altro lato, i veloci cambiamenti, le crisi economiche in Occidente, l'arrivo di migliaia di stranieri, musulmani e non, i conseguenti disorientamenti e paure di fronte a questi cambiamenti, sono la base che alimenti i sentimenti anti-islamici, anch'essi, nutriti dai vecchi stereotipi, mai del tutto dimenticati. In questo contesto, non è secondario il rischio, questa è la mia opinione, non è secondario il rischio che le nostre rispettive religioni vengano ancora una volta usate come strumento di difesa rispetto al pericolo percepito, che vengano considerate esclusivamente come elemento di aggregazione identitaria e come argine alle invasioni culturali e alle nuove immigrazioni. Mi spiego. In Oriente si rischia, cioè, che l'islam diventi lo strumento di lotta politica, è già così, purtroppo, in molti posti, diventi uno strumento di lotta politica per combattere le corruzioni culturali che stanno cambiando a detta di quei movimenti la purezza delle istituzioni religiose e sociali della loro popolazione. Si usa l'islam come elemento di aggregazione identitaria contro tutte le novità che la modernità ha portato, i cambiamenti sociali e tutte le sfide e anche le corruzioni del loro regime. Insomma, bisogna tornare al regime puro di una volta che è islamico. In Occidente esiste un po' una risposta a questo e così anche molti altri movimenti islamici che hanno una forte connotazione anche politica. In Occidente, d'altro canto, le chiese cristiane o, se preferite, la tradizione cristiana un po' in tutta Europa, non solo in Italia, possono essere usate per la difesa e l'aggregazione identitaria e la società disorientata di fronte all'invasione dei migranti per il bisogno di riferimenti culturali condivisi, per il bisogno più in generale di ricostituire la propria casa in rovina. Sta cambiando tanti cambiamenti sociali, culturali, eccetera. Abbiamo bisogno di recuperare le nostre radici, recuperare il nostro contesto, dunque si recupera un po' la tradizione cristiana senza la fede però, insomma, la chiesa dunque. Ecco, senza entrare nel merito di tali questioni che meritano ben più approfondite considerazioni, anche qui sono pennellate però sono intuizioni, è un rischio comunque che dobbiamo evitare. Di fronte a queste situazioni il rischio di nostra etate, il richiamo di nostra etate e i successivi documenti della Chiesa che invitano a un atteggiamento nuovo e diverso nei confronti dei musulmani sono attuali più che mai. Sono molti i documenti che dal Vaticano II in poi i papi e le conferenze episcopali hanno pubblicato sulla necessità di un dialogo nuovo e fraterno con il mondo musulmano. Sono quasi due miliardi di persone. Non possiamo non essere in rapporto, in dialogo con questa realtà. Più che i documenti, tuttavia, se posso permettere, mi sono importanti i gesti e le testimonianze. È dalle testimonianze personali e collettive, infatti, che si possono ricavare indicazioni concrete e insegnamenti efficaci e incisivi nella coscienza delle persone. Solo così si potrà avere un reale cambiamento di atteggiamento. Il catechismo non ha mai convertito nessuno. Ti converti quando incontri una persona che ti cambia la vita. Poi il catechismo ti aiuta a mettere ordine nell'esperienza che hai fatto. Così anche i documenti non cambieranno mai l'atteggiamento di nessuno. Sono le testimonianze delle persone, sono la loro esperienza, ciò che hanno vissuto che colpiscono e diventano efficaci e incisivi nella vita delle persone. I documenti a loro vengono dopo. I documenti sono importanti, sono necessari, servono per dare anche a questi gesti una forma di orientamento comune per il futuro ma senza testimonianze concrete i documenti corrono il rischio di restare lettera morta. Ecco, tra i gesti importanti penso che lo riprenderò dopo. Penso in particolare il periodo di preparazione al giubileo del 2000. Non so se ricordate, è il processo di purificazione della memoria voluto con l'insistenza da Papa Giovanni Paolo II. Aveva insistito molto, lo ricordo molto bene, io ero studente, ero qui a Bologna in quegli anni. No, ero già a Gerusalemme negli anni davanti. Processo allora molto discusso, non tutti erano molto d'accordo su questo, per questo credo molto profetico. come poter accostarci al mondo islamico con libertà, infatti, senza una relettura libera e purificata della nostra difficile e drammatica storia. Quindi non possiamo dimenticare, non ha senso dimenticare quello che è stato, ma non possiamo permettere che la storia diventi quel macigno che ci impedisce di voltare pagine e guardare avanti in maniera diversa. Ma venendo a un passato più recente, due eventi hanno avuto luogo nel giro di pochi mesi e hanno sottolineato quanto la Chiesa stia continuando insistentemente a promuovere un dialogo con i credenti musulmani in tutto il mondo, specialmente dove cristiani e musulmani vivono insieme. Ma sarà così anche qui. La prima è stata la beatificazione dei martiri algerini l'8 dicembre del 2018. La seconda è stata la firma della dichiarazione Fraternità umana per la pace mondiale e la convivenza di Papa Francesco il capo di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019. Il primo evento sono 19 religiosi cattolici sono stati beatificati insieme a una cerimonia emotiva ad Oran in Algeria alla fine del 2018. 19 erano stati assassinati violentemente per un periodo di poco più di due anni dal maggio 1994 all'agosto 1996. Furono brutalmente assassinati da assassini anche questo erano guidati da ideologie islamiche e politiche radicali. Probabilmente questi ritenevano che quei religiosi rappresentassero la cristianità coloniale e anti-islamica. Anche qui vediamo ancora una volta un confondersi del piano religioso con quello politico legato alla nostra difficile storia. In ogni modo tra questi martiri più noti sono senza dubbio i due che hanno provocato una profonda riflessione sul rapporto tra chiesa e musulmani Pierre-Lucien Claverie che è commemorato stasera vescovo di Orano in Algeria dominicano e Christiane de Serge priore del monastero trappista a Fibirin Algeria penso che tutti ne abbiamo sentito nominare. Entrambi questi uomini erano testimoni radiosi delle possibilità della testimonianza cristiana nel mondo musulmano. Testimonianza cristiana nel mondo musulmano non ci crendiamo molto facciamo fatica a credere che si possa testimoniare Gesù nel mondo musulmano. Entrambi erano legati da amore e passione per la nazione algerina e le sue popolazioni e coltivavano rapporti di amicizia con tantissimi musulmani sul piano fraterno religioso e culturale. Erano testimoni veri della ricchezza di tale amicizie e di come il rapporto con i musulmani potesse contribuire a un approfondimento della fede cristiana. essi appartenevano a una nuova generazione di pionieri nel dialogo con i musulmani traendo ispirazione da persone come Louis Massignon biogorfo francese del mistico Al-Hallaj Giorgia Nawati l'esperto dominicano egiziano sul pensiero musulmano sto facendo propaganda dominicano mi dovete pagare Robert Caspar Joseph Cook sia missionari dell'Africa che gli storici dell'Islam. questa prima generazione era stata coinvolta nella formulazione di quel famoso paragrafo 3 di nostra età Traveri e Chiraget insieme a molti altri hanno continuato il loro lavoro sono stati i redi di quella prima generazione il dialogo e la relazione non sono una necessità sociale al quale il cristianesimo e noi oggi ci dobbiamo adeguare ripeto non sono dialogo e relazioni non sono necessità al quale ci dobbiamo adeguare non si tratta di fare qualcosa richiesto dalle esigenze del tempo la relazione e l'apertura verso l'altro sono costitutive della fede cristiana e della vita della Chiesa senza dialogo e rapporto con l'altro la Chiesa viene meno la sua missione fondamentale non è Chiesa entrare in relazione essere proteso verso l'altro è fondamento della vita cristiana nella vita del credente cristiano il soggetto è tu mai io comincia con tu mai con io il cristianesimo nasce da un uomo figlio di Dio e Dio che per amore si lascia morire annientato sulla croce per donare la vita al mondo ed è questa la logica che accompagna ogni cristiano fare di sé un dono di vita anche a prezzo della propria Claverie vero credente fu mosso proprio da questo principio cristiano ad entrare in relazione con la realtà nella quale la provvidenza l'aveva posto per costruire da lì il regno la provvidenza attraverso l'obbedienza dei suoi superiori l'ha messo lì Pierre Claverie da qui tu costruisci il regno in questa realtà così com'è cito uno dei suoi scritti una delle mie principali missioni in Algeria ha detto è stabilire sviluppare e arricchire una relazione sempre ovunque e con tutti continuo conosco abbastanza amici musulmani che sono anche miei fratelli per pensare che l'islam sa essere tollerante fraterno il dialogo è un'opera alla quale dobbiamo tornare senza sosta da solo ci consente di disarmare il fanatico il fanatismo sia il nostro che quello dell'altro non era comunque da quel poco che ho conosciuto leggendo i suoi scritti noi a Gelosalemme abbiamo un dominicano il direttore del Colbiblic che ha conosciuto Pierre Claverie Jean-Jacques Perenet che è fanatico di Claverie quindi quello che so l'ho saputo attraverso lui insomma non era Claverie un idealista astratto edulcorato separato dalla sua realtà che soprattutto nel periodo precedente al suo assassino aveva evidenti caratteri di fanatismo e violenza non chiudeva gli occhi di fronte al radicalismo islamico condannando costantemente la codradia di coloro che erano passati alla violenza uccidendo nell'ombra al contrario prese posizioni chiare contro colori che in Europa promuovevano un dialogo ingenuo che evitava il vero e arduo compito di un confronto vero serrato sincero ma rispettoso cito alcuni suoi scritti la riconciliazione non è un affare semplice lo ha scritto nel 95 ha un prezzo elevato la riconciliazione può anche comportare come ha fatto per Gesù essere diviso tra opposti inconciliabili importante un islamista è un kafir cioè un infedele un islamista un infedele non possono essere riconciliati allora sempre claveri qual è la scelta bene Gesù non sceglie dice in effetti vi amo tutti e muore fine della citazione quelle parole si dimostrarono straordinamente profetiche claveri credeva fermamente che una società in cui i musulmani erano la maggioranza potesse essere effettivamente democratica e tollerante credeva anche che i cristiani che avevano combattuto contro i musulmani e li avevano colonizzati non dimentichiamo che ci troviamo nell'Algeria postcoloniale che ha lasciato segni profondi e contraddittori nella società algerina avevano la responsabilità di aiutare a costruire la società civile istituire biblioteche per studenti ricercatori centri di reabilitazione centri per l'educazione delle donne e così via non avrebbe permesso come ha detto e cito al nostro amore di estinguersi nonostante la lacerazione nei nostri cuori desiderando la pace e costruendola a piccoli passi piccoli passi rifiutando di unirsi al coro di quanti urlano rimanendo liberi anche se ancora in catene fine della citazione Cleverie fu assassinato insieme al suo amico autista musulmano Mohamed Bouchiqui mentre i due stavano morendo il loro sangue si mescolava sul pavimento una metafora del percorso comune che abbiamo di fronte a noi veniamo ora a Papa Francesco mi avete detto da Pierre Cleverie a Papa Francesco adesso bisogna passare a Papa Francesco poi anche perché il tempo stenge ancora dieci minuti Papa Francesco ha intrapreso questo percorso a modo suo insistendo per tutto il suo pontificato in un dialogo di religioni per riparare il mondo spezzato in cui viviamo frantumato forse ha coinvolto i musulmani in un modo particolare intenso ha accolto i musulmani in Vaticano ha viaggiato a paesi in cui i musulmani sono la maggioranza Giordania Palestina Albania Turchia Bosnia Zebaijama Kadesh Egitto Emirati Arabi Uniti Marocco nel 2016 nella Repubblica Centroafricana il Santo Padre ha visitato una moschea locale e ha detto alla comunità musulmano locale in un paese che ha conosciuto molta violenza religiosa islamica cito cristiani musulmani sono fratelli e sorelle dobbiamo pertanto considerarci e comportarci come tali siamo ben consapevoli che i recenti eventi atti di violenza che hanno scosso il vostro paese non erano fondati su motivi religiosi coloro che affermano di credere in Dio devono anche essere uomini e donne di pace insieme dobbiamo dire no all'odio no alla vendetta no alla violenza in particolare quella violenza perpetrata nel nome di una religione o di Dio stesso Papa Francesco è stato molto fermo nel spingere qualsiasi tentativo di equiparare l'islam alla violenza e allo stesso tempo ha incoraggiato fermamente l'Europa a non avere paura dei musulmani claverie coloro che erano stati beatificati con lui hanno reso una testimonianza che ha alimentato e preparato il documento firmato da Papa Francesco dal grande iman di Al-Azhar Ahmad al-Taye nel febbraio di quest'anno ero presente in quel momento tutti i vescovi dello Mediolente erano presenti basandosi sulle intuizioni di nostra età il documento chiede non solo la pace al dialogo ma anche l'amicizia è la collaborazione tra cristiani e musulmani cito la fede porta un credente a vedere nell'altro un fratello o una sorella da sostenere e amare attraverso la fede in Dio che ha creato l'universo le creature e tutti gli esseri umani uguali per la sua misericordia i credenti sono chiamati ad esprimere questa fraternità umana salvaguardando la creazione e l'intero universo e sostenendo tutte le persone specialmente più poveri e più bisognosi la dichiarazione di Abu Dhabi fedele alla testimonianza di Kaveri non è idilliaca né polemica ma sobria il genere quando si parla di musulmani si va sempre o da un eccesso o dall'altro tutto bene o tutto male ecco tutti i credenti sono chiamati a un chiaro esame di coscienza in modo da poter esaminare le reciproche narrative i nostri comportamenti e le nostre attitudini e educare la prossima generazione all'amicizia e alla fratellanza documento cito dichiariamo fermamente che le religioni non devono mai incitare la guerra attesamenti odiosi ostilità ed estremismo né devono incitare la violenza e lo spargimento di sangue queste tragiche realtà sono la conseguenza di una deviazione dagli insegnamenti religiosi derivano da una manipolazione politica delle religioni e da interpretazioni fatte da gruppi religiosi che nel corso della storia hanno approfittato del potere del sentimento religioso nel cuore di uomini e donne per farli agire in modo che ha niente a che fare con la verità della religione questo documento è stato firmato da un musulmano e da un cristiano quindi non è un documento prodotto dai cristiani quindi è un'impressione anche islamica di capitale importanza soprattutto per il mondo islamico il concetto di cittadinanza comune citato nel documento uguale per tutti apertamente menzionato e mai prima d'ora citato in un documento di questo genere erano soprattutto i cristiani a parlare pochi intellettuali musulmani ricordo il sinodo per le chiese del Medio Oriente che insistevano sul concetto di cittadinanza comune distinto dall'appartenenza religiosa ora in un documento ufficiale pubblico e autorevole come questo si dice apertamente che per costruire insieme una società civile la cittadinanza si basa sulla parità di diritti e doveri in base alle quali tutti godono della giustizia è quindi fondamentale stabilire nelle nostre società il concetto di piena cittadinanza e rifiutare l'uso discriminatorio del termine minoranze che genera sentimenti di isolamento e inferiorità è un passaggio molto importante scontato in Europa ma non in Medio Oriente il fatto che autorità islamiche firmino scrivano e firmano questo documento è un passaggio molto importante e dice che nell'Isma ci sono dentro l'Isma insomma delle tante dinamiche insomma di ripensamento delle proprie forme nelle manifestazioni di queste ultime settimane in Libra in Iraq che hanno visto accomunati i sunniti i sciiti i cristiani i drusi e molti altri possiamo vedere un piccolo seme di questa idea di cittadinanza comune distinta anche se non separata dall'appartenenza religiosa un altro passaggio di Papa Francesco vado verso la fine hanno veramente espresso la sua visione per un dialogo con ebrei e musulmani cito gli studenti parlava gli studenti di teologia gli studenti di teologia dovrebbero essere educati nel dialogo con l'ebraismo e l'Islam per comprendere le radici e le differenze comuni delle nostre identità religiose non è che siamo tutti uguali ci sono anche le differenze ma comprenderle e quindi contribuire in modo più efficace alla costruzione di una società che valorizzi la diversità e promuove il rispetto la fratellanza e la convivenza pacifica riferendosi poi specificamente ai musulmani ha detto con i musulmani siamo chiamati al dialogo per costruire il futuro delle nostre società e delle nostre città siamo considerati e considerarli partner per costruire una convivenza pacifica anche quando ci sono episodi scioccanti di gruppi fanatici nemici del dialogo come la tragedia della scorsa a Pasqua in Sri Lanka quelle tragedie vergognose non devono fermare il dialogo al contrario lo devono rafforzare perché questi fanatici non vogliono dialogo non dialogare significa dare ragione a loro fare quello che loro vogliono creare le distinzioni erigere i muri taglio un po' vado verso la fine mi piace ritornare verso la fine ancora una volta processo di purificazione della memoria del giubileo del 2000 allora tale processo fu un'iniziativa cattolica che coinvolse esclusivamente la nostra chiesa a distanza di quasi 20 anni ci ritroviamo stavolta insieme ad altre comunità religiose in una nuova fase di quel processo che forse non finirà mai rileggere insieme la propria storia ma per orientare le nostre rispettive comunità a un nuovo e diverso atteggiamento per il futuro il regno di Dio dicevamo si costruisce a partire dalla realtà e dal luogo in cui la provvidenza ci pone oggi la provvidenza ci pone in un contesto pluriculturale e plurireligioso i movimenti e le migrazioni di milioni di persone la facilità delle connessioni ci hanno resi sempre più esposti all'incontro con il diverso e altro da noi in questo contesto il dialogo in particolare il dialogo interreligioso è diventato una necessità non è un lusso per intellettuali snob ma è uno degli elementi costitutivi della vita sociale e religiosa del nostro tempo senza il quale non avremo i corretti strumenti di lettura e interpretazione di quanto stiamo vivendo il dialogo interreligioso serve anche per conoscerci se noi non conosciamo bene il modo di pensare islamico non saremo in grado di interpretare correttamente i loro gesti e viceversa naturalmente un dialogo interreligioso serio è quello che parte dal reale che non nega i problemi e le reciproche paure ma nemmeno se ne lascia travolgere rifiuta ogni forma di violenza cerca a tutti i costi di comprendere l'altro senza necessariamente condividerne l'opinione non vuole convincere né convertire ma rispettare per essere rispettato il dialogo interreligioso non afferma ma nemmeno presuppone che siamo tutti uguali siamo uguali nei diritti ecco per carità non mi fraintendete ecco ma siamo veniamo da estrazioni culturali diversi siamo diversi in questo tempo in questo senso non si negano le diverse identità religiose e culturali non si devono negare le differenze negare le differenze dicevo è proprio degli integralismi che vogliono tutti uguali a sé il dialogo interreligioso riconosce le differenze che però non considera minacce e cerca di comprenderle per il dialogo interreligioso insomma si intende l'incontro delle comunità religiose e dei loro leader a partire da quelli locali per dibattere dei comuni problemi dei problemi concreti non credo si possa fare dialogo interreligioso a partire dai problemi di fede cioè che le questioni dottrinali devono essere all'inizio del nostro dialogo non lo so forse in un secondo tempo quando le relazioni umane e sociali saranno diverse potremo avere la libertà di discutere anche di fede ma non sono sicuro però che questo possa essere anche in futuro tema di discussione più utile è discutere e dialogare a partire dalla propria esperienza di fede più che parlare di fede a partire dalla propria esperienza di fede che ti porta a incontrare l'altro cominciare a parlare di fede subito quando le relazioni umane non sono ancora solide e libere ci si blocca subito e cioè è necessario e imprescindibile avere un dialogo tra religiosi sui problemi comuni partendo dalla comune umanità dialogo interreligioso insomma si può considerare come un pellegrinaggio un invito a uscire dal proprio mondo e dalle proprie certezze per incontrare l'altro la sua esperienza di fede cercando la crescita umana e spirituale di ciascuno oggi e veramente adesso concludo rispetto a quel passato che influenza ancora tanto le nostre relazioni possiamo forse avere maggiore opportunità di cambiamento di riforma la separazione la separazione tra sfera civile e sfera religiosa in occidente ha reso il cristianesimo occidentale più libero e la testimonianza della chiesa più sincera anche il mondo musulmano seppure in forme diverse apparentemente contraddittorie è attraversato da fenomeni epocali di ripensamento delle proprie forme mai vissuti finora in queste proporzioni abbiamo dunque delle opportunità mai avute fino ad ora non dobbiamo essere ingenui non dobbiamo pensare che la storia si possa dimenticare facilmente che i pregiudizi crollino che i fanatismi spariscono la strada è ancora lunga ecco sappiamo che ci saranno ancora ostilità ad entrambi i lati ma guai ad esistere questa fase è cruciale di cambiamenti politici sociali e religiosi che ci coinvolgono tutti spetta a noi decidere che orientamento prendere come vivere e come porsi di fronte a tali fenomeni se lasciare che la nostra storia difficile oriente le nostre decisioni oppure se essere tra colori che decidono di voltare pagina e scrivere una storia diversa la nostra vocazione di credenti cristiani ci impone di non subire acriticamente questo fenomeno di cambiamenti ma viverlo serenamente da persone libere e redente mosse dal desiderio sincero di incontro e relazione Pierre Claverie e Christiane Descherget con le loro testimonianze di vita ci hanno indicato una via con la loro beatificazione alla chiesa e le ha indicati a noi come modelli di riferimento ora aspetta a noi decidere chi seguire grazie grazie ma signore che ci hai dato un quadro davvero esauriente del problema del rapporto tra i smane e i cristiani soprattutto di quello che la chiesa vive oggi attualmente per stabilire questo rapporto con l'Islam ha detto una cosa molto importante che i documenti non bastano per realizzare questo rapporto occorrono dei gesti delle testimonianze e credo che Pierre Claverie sia stato un esempio di questa concretizzazione del rapporto del rapporto con l'Islam vissuto con il rischio della sua vita e con il dono che ha fatto della sua vita per questo passiamo adesso la parola a confratello Domenicano che vive a Istanbul da 15 anni 17 17 anni ormai ed è impegnato in questo rapporto in questo dialogo con l'Islam paroco della chiesa di San Pietro e Paolo ed è responsabile anche del centro culturale che è sorto in questa nostra comunità lo saluto con particolare affetto perché è stato mio studente a suo tempo si è lavorato in filosofia anche con me mi ricordo era una tesi su Anna Arendt e quindi lo rivedo con tanto piacere e lasciamo lui adesso la parola per parlarci di Pierre Claverie alla luce anche del suo impegno della testimonianza che cerca di dare a Istanbul il riconoscimento e l'accettazione della differenza dell'alterità sono le cose più difficili per le persone e i gruppi umani quali che siano il primo riflesso istintivo davanti a qualcuno di veramente diverso altro è la differenza la diffidenza il ripiegamento su di sé la difesa la sola esistenza dell'atto dell'altro mette in crisi la mia identità e talvolta anche la mia esistenza l'animale reagisce con la fuga la seduzione o l'attacco spesso anche l'uomo più sottilmente prova a cancellare le differenze a costo di non raggiungere mai gli altri nella loro singolarità concreta fondando la loro identità su delle identità radicali trascendenti universali i credenti non sono naturalmente portati alla tolleranza anche se il loro messaggio invita fortemente a farlo buonasera ho cominciato non con parole mie ma tentando di dare subito voce a Pierre Claverie anch'io questa sono un passaggio per me molto importante di una conferenza che Pierre tenne alla moschea di Parigi il 15 giugno del 1988 invitato dalla loro Iman Sheben Sheik una conferenza che fu una prima volta per certi versi abbastanza inedita in Europa era già vescovo Pierre tra l'altro fu una conferenza per certi versi calorosa ma anche con momenti un po' di tensione un giovanotto a un certo punto in modo piuttosto robusto lo interpella cercando di provocarlo un pochettino e il grande Iman allora si avvicina a Pierre gli tocca il braccio e gli sussura nell'olecchio lasci stare e mio figlio me ne occuperò a casa mia ne riparleremo grazie già a Monsignor Giambattista per questa prima parte tra l'altro tengo a precisare che almeno quest'anno sono già intervenuto in tre convegni su Francesco a Danietta quindi la par congicio esiste tra francescani e dominicani fa parte della nostra della nostra tradizione io vorrei semplicemente sperando che riusciate ancora a tenere duro per qualche minuto vorrei semplicemente tentare di dopo questo quadro storico teologico appunto schizzato da Monsignor Giambattista di riprendere attraverso un riferimento più diretto al percorso umano spirituale di Fra Pierre anche un po' in dialogo con Christian che è già stato evocato il priore di Tibirin i due tra l'altro li abbiamo associati adesso faccio una pubblicità e un libretto che è uscito appena adesso che forse trovate nel corridoio di uscita di questa sala sul tema dell'ospitalità sono due personalità molto diverse ma straordinariamente anche legate da un percorso che vorrei che sentiste un po' come un percorso davvero mistico un percorso straordinario per certi versi che ci porta veramente penso lontano e che è stato un punto di riferimento almeno personalmente per me e naturalmente non dimentichiamo gli altri 17 martiri di Algeria è un'esperienza la loro che in fondo viviamo anche per certi versi al quotidiano in diverse terre di Islam nella complessità del Medio Oriente l'idea con parole mie sarebbe l'idea fondamentale che è già stata evocata da Monsignor Giammatista questa il dialogo interreligioso è un pellegrinaggio che porta all'incontro di uomini e donne cioè di umanità concrete per le quali è imprescindibile vivere al quotidiano la propria esperienza di fede questo non è un dettaglio da poco perché riconoscere che il musulmano che sta di fondo a noi sta vivendo al quotidiano una con coerenza la sua esperienza di fede è estremamente determinante per entrare in un dialogo dico questo perché dopo vent'anni di terra d'Islam quando con alcuni amici di lunga data o amiche di lunga data l'amicizia è una cosa seria a tutte le latitudini possiamo dirci raccontami qualcosa della tua esperienza di fede vi assicuro che da parte di un musulmano c'è sempre un vago o profondo stupore di essere interpellati su questo argomento e di non essere visti immediatamente semplicemente come un problema sociologico allora dicevo per uomini e donne umanità concrete per cui è imprescindibile vivere al quotidiano la propria esperienza di fede convinti che proprio nell'incontro con l'esperienza di fede dell'altro si possa crescere umanamente e spiritualmente essendo le due dimensioni non separabili ecco questo è il cuore penso del percorso cristiano di pierre e dei martiri di algeria e di tanti altri anonimi di cui non conosciamo i nomi ma che il signore conosce allora dicevo pellegrinaggio pellegrinaggio non come semplice classico esodo verso un luogo sacro di riferimento ad esempio ma prima di tutto come uscita da sé questo è un concetto molto forte fondamentale per pierre claveri pierre non era un migrante né un rifugiato ma era un membro di una famiglia di pierre noir è un termine solitamente attribuito ai francesi di origine europea stabilitisi nell'Africa del nord in tutto il Maghreb in genere per ragioni di lavoro fino all'epoca più o meno delle indipendenze di questi paesi quindi fino all'inizio degli anni 60 ma che in un secondo tempo è in buona parte limitato ai francesi d'Algeria discendenti di emigranti europei e in buona parte tra l'altro rimpatriati a partire dagli anni 60 cioè dagli anni dell'indipendenza dell'Algeria stessa allora la famiglia di pierre stabilita in Algeria da quattro generazioni è insediata in un quartiere Babelwed di Algeri che era un quartiere praticamente europeo massicciamente europeo dove vivevano del resto adesso non interessa questo Cristian ha un percorso simile perché Cristian è un alsaziano quindi vuol dire quasi automaticamente figlio di militari militare lui stesso che aveva fatto un'esperienza di servizio di leva militare in Algeria per 18 mesi come responsabile di una serie di villaggi di villaggi algerini in quella che lui definirà una guerra così poco fatta e più subita ma sarà un impronte e poi ci ritornerà sotto ben altre vesti in questo paese insomma per motivi diversi come già in qualche modo ha evocato padre Giambattista Pier e Cristian agli occhi del popolo algerino medio rappresentavano l'odiata Francia coloniale punto e questo bisogna saperlo e loro hanno dovuto assumerlo questo bisogna assumerlo e non basta dire ma che centro io per entrambi la vocazione algerina comporterà un profondo lavoro dunque culturale e spirituale fortemente interiore che direi può spazialmente essere sintetizzato come il passaggio da una posizione alta ad una posizione bassa cosa voglio dire si trattava di lasciare la posizione alta di coloro che hanno qualcosa da offrire la posizione paternalista dei benefattori di quelli che conducono il gioco di quelli che decidono le regole del gioco di quelli che si stabiliscono per dominare per assumere la posizione bassa dello straniero domiciliato che chiede e spera di essere accolto come tale cercando pure di farsi perdonare il passato con il quale è identificato e che con il quale non necessariamente c'entra qualcosa ma è identificato quindi la vera sfida non è essere uomini e donne ospitali capite cosa che ti potrebbe anche inorgoglire e ti lascerebbe sempre in una posizione alta posso darti ospitalità sono buono ma è di chiedere ospitalità desiderarla desiderarla come un dono ricevuto ci sarebbero tanti commenti da fare perché è un atto profondamente cristologico di colui che non considerò un tesoro la sua guaglianza con Dio ma si fece uomo bussando alle porte dell'umanità Apocalisse 321 per esempio colui che elemosina ospitalità non avendo lui stesso un luogo dove posare il capo eccetera 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 colui che viene da Nazare da dove niente di buono può arrivare eccetera eccetera torniamo ai nostri due amici soprattutto a Pierre si tratta dunque di un percorso spirituale esigente tutt'altro che romantico che significa lasciarsi gradualmente disarmare anche in un mondo violento e ostile perché è solo a questa condizione che si può essere accolti dall'altro nel caso di Pierre e Christian dall'Algerino abbracciando la sua diversità Christian esprimerà questa esigenza sotto forma di preghiera con un afflato mistico abbiamo dovuto vedere Christian con alcuni dei suoi compagni è una delle grandi fiducia della mistica del ventesimo secolo senza nessun dubbio cito Christian dice questo altro che mi minaccia potrei io arrogarmi il diritto di domandare signore disarmalo se non cominciassi invece con il chiedere disarmami e disarmaci in comunità è la mia preghiera quotidiana e ve la affido sempre Christian nell'omelia per la notte di Natale del 95 due mesi prima che i trappisti o meglio quasi tutti i trappisti del monastero di Tiberin vengano sequestrati in questa omelia della notte di Natale dice siamo chiamati ad essere un segno disarmante di un Dio che è disarmante Pierre per certi versi affronterà gli stessi temi in modo diciamo più strutturalmente più teologicamente strutturato prima di tutto e qui è interessante e ritorno a quello che ho detto all'inizio pellegrinaggio come esodo come uscita da sé perché Pierre farà una drammatica constatazione quella di aver vissuto 18 anni della sua vita confinato in quella che chiamerà un giorno la bolla coloniale è un'espressione tipica sua che poi applicherà in diversi suoi interventi tardivi allargandolo il concetto perché parlerà anche poi di bolla cattolica di bolla cristiana eccetera eccetera cioè in un mondo totalmente parallelo e autosufficiente scrive Pierre tra l'altro parlando della sua famiglia non eravamo razzisti sono totalmente indifferenti forse perché ignoravo l'altro o negavo la sua esistenza scriverà più tardi che un giorno mi è improvvisamente apparsa come evidente ha fatto esplodere il mio universo chiuso che si è decomposto nella violenza ma poteva essere altrimenti si chiede e ha affermato la sua esistenza come mi ha urlato in faccia che esisteva è stata in fondo necessaria una guerra per far scoppiare la bolla c'è in queste posizioni è evidente una scelta radicale di non violenza però che non è semplice attitudine romantica da figli dei fiori ma un percorso spiritualmente cristologicamente fondato la scelta della non violenza è la rivincita dice Pierre di un dio con le mani nude e inchiodate rivincita definitiva di un annuncio evangelico liberato da ogni fardello coloniale e ritorna fardello come giustamente ha ricordato padre Giambattista che non è solo un rettaggio occidentale in quanto tale anche in paesi che non sono mai stati formalmente sotto il gioco coloniale come la Turchia tra l'altro vive di questa visione una certa retorica populistica anche oggi un giorno su due nei giornali ci chiamano infima minoranza della Turchia a meno dello 0,1% i nuovi crociati è un discorso di oggi è evidente allora dicevo quel riferimento di Pierre alla rivincita di un Dio con le mani nude e inchiodate è un invito potente a cambiare il nostro rapporto con il mondo il nostro modo di pensare l'abitare questo mondo in preda alla violenza la violenza tra l'altro ad esempio che è quella che si esprime anche con l'abuso di potere tanto per guardare a cose di casa nostra per Christian cito il suo presentarsi a mani nude davanti all'assassino armato fino ai denti perché il monastero fu minacciato più volte da delle bande anche armate c'era un medico tra i monaci e quindi serviva per medicare i feriti durante le lotte e i conflitti gli scontri per Christian dunque il suo presentarsi a mani nude davanti all'assassino armato fino ai denti rende possibile disarmarlo non solo facendo facendogli vedere da vicino il volto di un fratello in umanità che si vorrebbe minacciare di morte ma anche lasciandogli la migliore possibilità di rivelare la sua stessa umanità vedete che in questa tematica rientra anche tutta la questione già evocata che per me è essenziale delle ferite della storia e la guarigione delle memorie già appunto evocata da chi mi ha preceduto nel riferimento ci torno anch'io a quel processo voluto da Papa Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo del 2000 quel gesto scandaloso del Papa mai perdonatogli da tanti moralizzatori al cuore della stessa Chiesa Cattolica molto attivi tra l'altro anche in questi tempi di inginocchiarsi davanti a Dio per implorare il perdono per i peccati passati e presenti dei suoi figli ribadendo poi che i cristiani sono invitati a farsi carico diceva Giovanni Paolo II davanti a Dio e agli uomini offesi dai loro comportamenti delle mancanze da loro commesse aggiungendo parafrasando Paolo senza nulla chiedere in cambio forti solo dell'amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori allora vedete che non si capirebbe il senso della testimonianza di Cristian e Pierre senza contestualizzarlo l'abbiamo solo evocato velocemente nell'Algeria del decennio nero degli anni 90 corrispondente alla guerra civile tra islamisti e forze armate in seguito alla vittoria schiacciante elettorale del FIS il fronte islamico della saldezza nel 1991 in sostanza per farla breve il processo di democratizzazione del paese cominciato laboriosamente all'indomani dell'indipendenza dalla Francia coloniale nel 1962 viene bruscamente interrotto da un colpo di stato dell'esercito che invalida le elezioni in qualche modo poliziotti e giornalisti uccise razzie alla cieca campi di detenzioni inumani al sud stabili bruciati bombe villaggi decimati si susseguono non se ne è parlato molto anche perché in Europa era considerato un problema franco-francese non sono cavoli nostri statistiche ufficiali menzionano più di 200.000 morti e migliaia di scomparsi la sporca guerra post-coloniale a far loro direbbero anche molti leader oggi però per comprendere la guerra civile algerina e questo soprattutto l'analisi di Pierre è chiara bisogna rendersi conto che la creazione di un'identità e di una coesione nazionali non è frutto di un coppo di bacchetta magica si tratta di un lungo processo che comporta momenti anche di smarrimento il 70% di una popolazione ricordava Pierre non diventa pericolosamente fanatica di giorno dal giorno alla notte per oscuri motivi in Algeria di colpo si arriva a accusare l'occidente di tutti i mali e ritorniamo alla storia già evocata prima pur avendo parenti che parlano francese e guardano la televisione in francese si arriva a applaudire al ritorno dei valori dell'islam senza smettere di sognare la libertà delle società occidentali vedete i cortocircuiti dell'epoca che sono anche quelli di oggi ci si indigna per la disonestà dei dirigenti divenendo al tempo stesso disonesti per sopravvivere dal 62 data dell'indipendenza la maggioranza dei francesi aveva lasciato il paese e molti algerini uno scambio di popolazione nati e cresciuti in Francia erano tornati come del resto a menne ai tunisini in Tunisia spesso tra l'altro questi algerini che tornavano avevano stretto relazioni molto forti con cristiani impegnati al loro fianco affinché la dignità venisse rispettata la loro dignità venisse rispettata in Europa quindi c'erano delle relazioni che si erano create ora nel settembre del 99 il governo algerino sottopone al referendum un progetto di legge chiamato della concordia civile e della pace che è più un cessate il fuoco che un vero accordo ma appunto stanchi di quella sporca guerra la popolazione lo adotta in massa a costo di vedere amnistiati gli autori dei massacri è un colpo di spugna poi nel 2005 viene promulgata la carta per la pace e la riconciliazione senza aver compiuto alcun lavoro di verità e giustizia e il paese porterà a lungo le ferite di questo triste periodo che sembrano talvolta riemergere proprio anche in questi tempi e prima l'abbiamo ricordato non c'è purificazione della memoria senza guarire le ferite però Pierre Cristian in Marti di Algeria da tempo avevano scelto un altro percorso molto più esigente molto più profondo senza colpi di spugna ma nell'ascolto e nell'accoglienza delle sofferenze di tutti perché dicevo prima lo ripeto le ferite vanno curate e possono essere curate nella misura in cui possono essere raccontate tu devi poter raccontare le tue ferite allora ecco il già evocato tessere legami storia di amicizia non è un'incantevole ingenuità ma il solo modo ragionevole umano e quindi anche finalmente cristiano di uscire dai nostri vicoli ciechi Pierre Cristian e i martiri di Algeria mostrano un'altra strada per la riconciliazione non per il referendum né tantomeno per decreto ma che passa attraverso il perdono al funerale di suora Esther la prima religiosa uccisa nel 94 religiosa spagnola assassinata il 23 ottobre del 94 il padre il padre naturale di questa suora prende la parola durante l'esequie per dichiarare pubblicamente che perdonava gli assassini ma ne dà la motivazione perché sua figlia era stata felice in Algeria ringrazio il popolo algerino di averle permesso di essere ciò che è stata Cristian preciserà il concetto nel suo testamento spirituale che è diventato un testo globale direi vergato pochi mesi prima del rapimento alla fine del 95 e cito un estratto che è estremamente significativo scrive Cristian mi piacerebbe a tempo debito avere quello sprazzo di lucidità che mi permetterebbe di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità e nello stesso tempo di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito non posso auspicare una morte così è una prima considerazione interessante non sono dei kamikaze ma poi va avanti in modo sorprendente mi sembra importante dichiararlo infatti non vedo come potrei rallegrarmi del fatto che un popolo che amo sia indistintamente accusato del mio assassino sarebbe un prezzo troppo caro per quella che forse chiameremo la grazia del martirio doverla ad un algerino chiunque gli sia soprattutto se questi dice di agire nella fedeltà a ciò che crede essere l'Islam fine citazione ci sarebbero molti commenti da fare a questo straordinario passaggio in uno dei libri che appunto ho trovato a disposizione nell'ingresso di questa sala abbiamo associato dicevo prima martirio e ospitalità due termini che sembrano non stare bene insieme ma facciamo riferimento alla semantica del termine martirio che lo sapete rimanda al greco marturia e significa in realtà testimonianza si è martiri perché testimoni non perché si è uccisi si è martiri perché testimoni non perché si è uccisi poi questa testimonianza radicale può implicare lo spingersi fino al dono di totale questo ci dicono non solo i martiri cristiani di Algeria ma le centinaia di musulmani uccisi in nome della stessa solidarietà umana nel paese e altrove allora vedete nel dibattito molto delicato che Christian e Pierre dovranno frontare in seno alle loro comunità e all'esterno concernente l'opportunità di restare in Algeria malgrado i rischi inauditi che comportava la situazione di violenza appunto degli anni 90 un dibattito che emerge molto bene nel famoso film l'esome di Dio uomini di Dio che ha reso mondialmente conosciuti i trappisti di Tiberina in questo dibattito testimonieranno senza compromessi che per un cristiano non è tanto la vita essere sacra quanto il suo dono nessuno può prenderci la vita perché l'abbiamo già donata questo dono non è disprezzo della vita ma è e qui è fondamentale è indissolubilmente legato alla passione per il mondo testimoniata dal Cristo incarnato e non in odio al mondo stesso vedete un capovolgimento radicale biblico della mistica del contempsio mondi di influenze platoniche che ha attraversato i secoli anche nella spiritualità cristiana che aveva appunto caratterizzato anche una certa spiritualità islamica passione per il mondo che comporta un profondo lavoro interiore al quale abbiamo già accennato e che si esprime principalmente nella cura delle persone e del loro incontro nell'incontro dell'umanità e finisco per Pierre Claverie era importante insistere sul fatto che il cristiano sia cremato a offrire la sua vita per riconciliare come un grano seminato in terra esprimerà questa esigenza come presenza ai piedi della croce da buon Domenicano aveva sicuramente in testa ad esempio gli straordinari affreschi del Beato Angelico presenza ai piedi della croce sulle linee di frattura che crocifiggono l'umanità altra espressione classica vergata da Pierre sulle linee di frattura che trafiggono che crocifiggono l'umanità linee sismiche di relazione difficile dice Pierre la Chiesa compie la sua vocazione e la sua missione quando è presente nelle rotture che crocifiggono l'umanità nella sua carne nella sua unità noi ci troviamo al nostro posto perché è solo in questo luogo che può intravedersi la luce della risurrezione e con essa la speranza di un rinnovamento del nostro mondo e per questo allora che la beatificazione già evocata dell'8 dicembre del 2018 nella basilica di Notre Dame di Santa Cruz a Orano dove Pierre fu vescovo titolare e dove è seppellito beatificazione che ha richiesto uno sforzo diplomatico da parte della Santa Sede non indifferente che è durato più di due anni in realtà con le premesse che ho tentato di fare non fu un jaccus un atto d'accusa al popolo algerino ma un estremo atto di riconoscimento ad un lavoro di riconciliazione avviato anche grazie al coraggio straordinario di centinaia di algerini morti con loro per il futuro del loro paese ed è così che dopo un lungo lavoro anche locale è stata sentita quella commomente celebrazione straordinaria che è stata fatta anche con le veglie dei giorni delle settimane precedenti sulla spianata della basilica forse qualcuno ha visto perlomeno le immagini l'altare era dominato da una grande icona moderna che ritraeva i 19 martiri di Algeria il vescovo e gli altri 17 tra cui i trappisti ciascuno distinto nei suoi abiti su diversi piani con una basilica di Notre Dame appunto della Croix di Orano e nell'angolo destro in basso un personaggio l'unico non arruole come si dice senza arruole aureola grazie per vedere se eravate ancora attenti un personaggio che in realtà è il famoso Mohamed Bukhihi l'autista di Pierre che è messo lì e buttato dall'autore dell'icona nell'angolo come rappresentante di quella Algeria in piedi musulmana che aveva a suo modo dato la vita ancora due mesi prima della loro morte già evocata da parte Giambattista Pierre aveva per un'ultima volta tentato di allontanare Mohamed che era un giovanotto di 21 anni che gli faceva un po' da factotum dicendogli torna da tua madre nel villaggio è sola ha bisogno di te qui è troppo pericoloso e Mohamed quella volta lì ha proprio perso la pazienza gli ha urlato in faccia ma che amico sarei se me ne andassi adesso e Pierre avrà ancora il tempo di confidare a uno dei a uno dei suoi amici più intimi fosse stato anche solo per una persona come Mohamed ha già senso aver passato 40 anni in questo paese la missione è già compiuta e come diceva i due sono poi morti nello stesso attentato con questo incontro simbolico del loro sangue che era promessa di futuro offerta di futuro per un futuro speriamo importante non solo per l'Algeria ma per tutto il Medio Oriente grazie 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 padre Claudio per questa testimonianza che tu ci hai dato dello spirito che ha animato il cuore di Pierre Claverie la testimonianza che trova proprio la sua eco in quello che Pierre Claverie disse a proposito del sacrificio che i monaci tivirine avevano compiuto che erano stati uccisi prima di lui e lui disse a questo proposito che questa loro morte questo loro martirio parlava di fraternità e di pace proprio attraverso questa forma di vita monastica che loro vivevano dove come hai messo in luce bene tu si è compiuta questo lavoro di purificazione della memoria di purificazione di questa immagine che noi abbiamo dato di noi cristiani occidentali di essere ricrociati anche l'ultimo attentato che è stato fatto che ha aperito questi nostri soldati è stato presentato dall'ISIS come un attentato contro i crociati questi soldati non cercavano di essere crociati ma però noi dobbiamo in qualche modo spogliarci di questa identità di questa memoria che abbiamo e abbracciare la causa della non violenza Pier Claverie diceva a proposito di questi monaci il loro sangue è versato mescolato con quello di migliaia di algerini e di algerine vittime della violenza il loro sangue suggella un nuovo patto per noi un'alleanza di amicizia che nulla neppure la morte potrà spezzare oggi dice il silenzio e la vita nascosta e umile di questi monaci parlano di fraternità e di pace la loro vita era contestazione di questa violenza che invece colpiva loro invece di colpire coloro che vogliono rispondere alla violenza con la violenza credo che questo sia uno dei messaggi che ci viene per per realizzare questa riconciliazione di cui tu parlavi ecco abbiamo ancora alcuni minuti se qualcuno di voi vuole intervenire prima però e volevo ricordare che il prossimo appuntamento che abbiamo con tutti voi il 3 dicembre prossimo martedì dove parleremo della nostra della città e del modo per renderla per renderla bella attraverso l'arte città e spazi urbani l'arte così come viene valorizzata oggi per valorizzare la città e di questo parleranno la silvia evangelistica storica dell'arte qui all'Università di Bologna mini romano artista e docente di antropologia culturale all'Accademia di Belle Arti qui di Bologna sempre Nadia Antonello e Paolo Ghezzi che sono artisti del collettivo Antonello Ghezzi e infine è la pollico animatrice culturale presidente dell'associazione Serendippo tutti questi amici ci intratteranno su come la città oggi può essere resa più vivibile più bella e accogliente attraverso l'arte e la nostra città in particolare città di Bologna quindi siete invitati a tutto questo c'era una persona che voleva fare una domanda buonasera grazie per le vostre testimonianze e a proposito di questo viaggio pellegrinaggio verso l'altro com'è la vita quotidiana a Gerusalemme o a Istanbul effettivamente al di là di quello che noi riceviamo dai media la contrapposizione tensione oppure c'è anche collaborazione rispetto meglio oriente non è out out ma et et vuol dire non è o questo o quello ma sia questo che quello diciamo che a livello politico la città di Gerusalemme la terra santa in generale ma soprattutto la città di Gerusalemme è divisa di fatto e la politica influisce come sappiamo sulle relazioni in maniera molto pesante la questione poi ultimamente le dichiarazioni anche di Trump sugli insediamenti la legalizzazione degli insediamenti è una cosa vergognosa per dire tutto questo non rende le relazioni semplici detto questo a livello dunque a livello istituzionale a livello anche di comunità le relazioni restano difficili detto questo poi la vita prevale sempre perché bisogna vivere alla fine quindi a livello personale individuale trovi sempre relazioni incontri sia nel posto di lavoro negli ospedali in quegli ambienti insomma nelle scuole ci si trova nascono anche delle amicizie non è scontato ma diciamo abbastanza frequente la politica ripeto influisce ma non riesce a diciamo a coprire tutto a 360 gradi lo spazio delle relazioni anche individuali e personali che restano quindi ancora tanti margini di incontri di relazione direi come una battuta da diversi mesi a Istanbul abbiamo uno zaino di sopravvivenza in caso di terremoto perché è una zona ampussismica e allora è consigliato avere qualcosa di essenziale in caso che la terra tremi eccetera eccetera recentemente quando c'è stato formalmente poi una storia molto più lunga ma in media l'hanno raccontato così c'è stato l'attacco nel nord della Siria della Turchia per creare questa zona diciamo così tampone zona contro i kurdi dalle notizie che anche dai telegiornali con satelliti che ci arrivavano soprattutto dall'Italia ci siamo detti oltre all'uzzare nella sopravvivenza dovremmo adesso prendere il giubbottante proiettile il casco e uscire fuori con la mitraglietta e la prima volta che ci siamo usciti in quei giorni fuori io ho trovato il verduriere che mi ha detto di nuovo con un sorriso grosso come una casa Assalamualaikum benvenuto la pace sia con te e mi ha detto cosa compri oggi cosa voglio dirvi come già diceva Padre Gian Battista quando si è costruito dei rapporti di fiducia tra persone non dico amicizia perché è un termine molto impegnativo ma dei rapporti di fiducia tra le persone che si conoscono e sanno chi sono se sono davvero rapporti di fiducia nessuno permetterà mai che la propaganda ci metta le mani sopra questi rapporti e li defenderanno fino in fondo questo è importante chiaro che non posso negare neanche io che il ruolo della propaganda ma in Turchia ne sappiamo qualcosa visto che è monocolore la propaganda ha un suo peso ma la gente e l'opinione pubblica in Turchia conserva la dialettica e ha dato risposte già in tempi anche recenti a una certa propaganda con gli suoi strumenti che ha molto concretamente ad esempio rimandando a casa un candidato rimesso in gioco da un voto invalidato in modo del tutto del tutto autoritario e illegale tanto per dire le votazioni a Istanbul tanto per dirne una quindi è una situazione vivace e credo che ci sono delle risorse che sono umane prima di tutto prima ancora che abitate eventualmente anche dalla fede che resistono alla mano della propaganda e aggiungerei ancora una cosa che è una considerazione un po' filosofica levinassiana la contraposizione nasce quando l'altro non ha volto se quell'altro ha un volto tu non lascerai mai mettere le mani sopra questo rapporto spesso volentieri parliamo di un'alterità per simbolo non sappiamo chi è come la gente che mi dice come dialogare con i musulmani e chi sono cosa vuol dire volto mettere il volto dietro le persone come che so i migranti non sono Papa Francesco lo dice un giorno sì un giorno no non sono dati statistici non sono tot uomini tot donne tot bambini tot malati tot zani eccetera sono vite umane sono storie se non fissiamo queste storie è chiaro che possiamo rimanere indifferenti l'altro diventa qualcuno con cui relazionarsi quando ha un volto grazie possiamo allora concludere questa serata accogliendo questo appello che ci viene rivolto di saper recuperare il rapporto con gli altri attraverso il rapporto col volto delle persone noi quando preghiamo con i salmi continuamente ripetiamo cerchiamo Signore il tuo volto ecco il volto di Dio possiamo cercarlo nel volto dei fratelli se li sappiamo rispettare se li sappiamo accogliere con fiducia in questo modo ci rapportiamo con loro così come ci rapportiamo con Dio e ci rapportiamo con Dio così come ci rapportiamo con loro grazie 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 per la vostra partecipazione questa sera e arrivederci grazie a te